Buongiorno a tutti, buon sabato, benvenuti nel canale, benvenuti in questo nuovo video prima di parlare di quanto è successo a Madrid nella giornata di ieri, di quanto potrebbe succedere nella giornata di oggi e di dare anche un'occhiata ai tabelloni di Roma, l'invito è come al solito mettere like al video, iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Innanzitutto scusatemi ma ieri per motivi di lavoro mi hanno chiamato a lavoro per una sostituzione, quindi non ho potuto fare il video del live del sorteggio di Roma che vi avevo promesso, quindi scusate ma non dipende dalla mia volontà e non ho potuto nemmeno fare il commento post partita. Cerco di recuperare in questo video, l'invito per il Fanta Tennis è di andare sulla playlist e guardare il post con i due tabelloni, ci sono tutti i link dei tabelloni a fare lì il pronostico, questo non è un video di pronostici del Fanta Tennis, è un video che parla un po' di quello che potrebbe succedere oggi, di quello che è successo ieri, di quello che potrebbe succedere oggi e di come è andato il sorteggio soprattutto maschile del tabellone di Roma. Per il Fanta Tennis c'è il link sulla playlist e c'è il post per fare i pronostici con tutti i link dei tabelloni, quindi vi basterà cliccare per avere sia il tabellone maschile che il tabellone femminile. Allora, ieri a Madrid Djokovic in 2-7 contro Uzak, partita sotto controllo per il serbo che vince 6-3-6-4, peccato solo non aver centrato i 20 e mezzo, ci siamo fermati a 19, però insomma Djokovic compitino e semifinale. L'impresa, tra virgolette, perché ormai non si può più parlare di impresa quando si parla di Alcaraz, la fa appunto Alcaraz che batte in 3-7 Nadal, 2-6-6-1, sì, 6-2-6-6-3, Alcaraz che se non ha quell'inconveniente nel primo set probabilmente la vince addirittura in due, quel piccolo infortunio del secondo set, probabilmente gli è accostato il secondo set, altrimenti poco da dire, Alcaraz ragazzi è un giocatore molto forte che come ho detto nel gruppo telegramma di questo canale, il gruppo sia del Fanta Tennis sia Tennis 24, è molto forte però sta sfruttando il fatto che insomma più della metà della concorrenza è in condizioni meno mate, Berrettini non c'è, Sinner viene da due volte che deve sospendere e poi iniziare l'attività, Medvedev non c'è, Djokovic ha giocato poche partite nell'anno, Nadal è in condizioni perose, quindi ovviamente il ragazzo ne sta approfittando bene ed è un merito perché a volte si hanno le fortune e non si sfruttano, ecco Alcaraz è uno di quelli a cui un vantaggio non andrebbe concesso perché se glielo dai se lo prende e quindi bravo bravo bravo, semifinale contro Djokovic, vediamo un po' quello che succede contro Djokovic che sembra, almeno per quanto riguarda la partita con Urzak, sembra in netta ripresa, Zilzipas soffre secondo me un set più del previsto perché vince in 2-7, 6-3, 2-6, 6-4 contro Rublev, queste sono le partite che causa lavoro non ho visto e Zerev, 6-3, 7-5 Aliasim, qua c'è saltato appunto il set di Aliasim, ci siamo andati vicino nel secondo ma non è successo, quindi le semifinali sono Djokovic, Alcaraz e Zilzipas Zerev, per quanto riguarda Djokovic, Alcaraz, io vedo che Carlitos Alcaraz possa vincere un set contro Djokovic, non credo, mi stupirebbe e mi preoccuperebbe da italiano se vincesse addirittura la partita, penso che Stefano Zizipas parta favorito nei confronti di Zerev, non sarà la partita di Monte Carlo, sarà sicuramente una partita più equilibrata però credo che i favori del pronostico vadano al greco. Per quanto riguarda il sorteggio di Roma commentiamo velocemente il tabellone maschile del torneo di Roma, tabellone maschile con set italiani, allora detto che ci sarà l'incognita Alcaraz perché bisogna vedere se dopo Madrid deciderà di fare Roma, però ecco Sonego è finito contro Shapovalov, un primo turno che se Sonego ritrovasse la verve di quello che era Sonego anche solo due anni fa sarebbe un primo turno assolutamente fattibile, adesso è favorito ovviamente Shapovalov per le condizioni di Sonego. Fognini team è una partita che Fabio può vincere perché team è è ovviamente lontano dalla miglior forma, chi vince trova il vincente tra Sinner e Martinez speriamo in bene perché insomma il Sinner visto contro Alias Simo un po' ha spaventato tutti, io leggo anche nel canale anche fra voi gente che ha dei dubbi sull'allenatore, li ho anch'io, però onestamente è un po' presto per dare la colpa al cambio di allegatore, a me non convince per quello che è successo a Cecchinato, nel senso che Cecchinato è arrivato al top, poi non ha fatto il salto di qualità ed è quello che temo possa succedere a Sinner per via dell'allenatore. Cobolli contro Broxpi è una partita, io Cobolli a Montecarlo non l'ho visto male, certo Broxpi ha molta più esperienza quindi è una partita da mettere persa in partenza, poi quello che succederà di buono succederà, abbiamo Passaro contro Galin, qua Galin che è il giocatore giochi del fantacalcio, vi ripeto andate sul post e commentate per il fantacalcio, non del fantacalcio, del fantatennis e commentate sul fantatennis, scusate ma esco dalla notte ora quindi sono un pochino fuori, Cilic contro Arnaldi, anche qua da Arnaldi c'è poco da chiedere, Nardi contro Norri quindi sarebbe bello se Nardi vincesse la sua prima partita ATP battendo Norri, poi eventualmente troverebbe Cilic, insomma stiamo fantasticando, diciamo che i tre che possono passare il turno sono Soneco, Sinner e Fognini e ci sarebbe eventualmente al secondo turno un derby fraticida tra Sinner e Fognini, il resto insomma sia Cobolli che Passaro che Arnaldi che Nardi partono con gli sfavori del pronostico, sperando che almeno uno di loro, cioè i tre che abbiamo detto arrivino al secondo turno e almeno uno di loro si aggiunga all'eventuale compagine a tre che giocherebbe il secondo turno di Roma. Io vi saluto, vi rinnovo ancora le scuse per non aver potuto fare la diretta su YouTube del tabellone di Roma, spero di aver rimediato con questo breve video, ripeto sono uscito dal lavoro circa un quarto d'ora fa quindi capitemi che io davvero non potevo fare la diretta, io vi rinnovo il fatto che per giocare al Fanta Tennis potete andare, anzi dovete andare nella playlist, c'è il post con le foto e con i link dei tabelloni e mettere il pronostico lì, mi raccomando mettete il pronostico lì sia maschile che femminile altrimenti non potrò prendervi in considerazione il pronostico se dovesse mancare una delle due parti e noi ci vediamo questa sera per commentare le semifinali di Madrid. Grazie a tutti, ancora scusate per la live mancata e ci vediamo appunto stasera. Buon sabato a tutti.